Ciao a tutti, oggi nuovo video, mi tocco con voi. Lasciate un percenso, lasciate un commento, iscriviti e attiva la campana per non fare nessun video. Se sei nuova benvenuta, io mi chiamo Ilaia, ho 26 anni, il mio compleanno è il 7 novembre, questo canale parlo di make up, di trucco e detrucco. Mentre io mi trucco, vi racconto tutti i video che porto sul mio canale YouTube. Mentre mi metto la crema viso di Bottega Verde. Aspetto qualche minuto che si assorbe. Il mio trucco è da tutti i giorni, mi trucco con voi, make up estivi, make up natalizi. Ora applico un campioncino di una crema base idratante. L'agricoltura biologica è vegano. Grazie. 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 minuto che si assorbe, make up per capodanno, mi tocco solo gli occhi, mi tocco con i prodotti di una sola marca, make up per occhi marroni, make up per principianti, turco occhi principianti, make up facile e veloce, ora applico la BB cream 6 in 1, medium, della Yves Rocher, con questo pennello di Douglas. Grazie. 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 come fare dura di più il neck up make up tutorial la mia base viso ora applico il duo illuminante di brochet con questo pannello che è il numero 02 batto i miei prodotti preferiti di make up i miei prodotti finiti di make up i dei trucco ora applico la cipria vivoshen compatta con questo pannello che è il numero 05 make up per occhi neri mi trucco in 5 minuti ora applico il prime occhi della puro bio questa è una marca biologica ancora un po' di tempo è la mia base è la mia base e la mia base è la mia base come imparare a toccarsi, make up routine, make up per chi porta gli occhiali, eroi da non fare, sul make up, come fare il contouring, mi trucco con le mani, come pulire i pannelli da trucco, ora aprico un ombretto di Bellaoggi, che è il numero 04, con questo pannello, che è il numero 10, sbatto, 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 poi con questo pennello lo vado a sfumare, con questa parte lo vado a sfumare, ora apico il mascara sopracciglia trasparente di Brochet, come disegnare le sopracciglia, a che cosa serve la cipria, come mettere bene il mascara, ora apico la mattita all'interno dell'occhio, al numero 02 Brownie, i miei prodotti di make up, a che cosa serve il primer, il mio make up più usato nei mesi, i miei prodotti di make up del mese, ora aprico il mascara della Messauda, effetto ciglia finte, Grazie. Grazie. E' giusto mascara per te, acquisti di make up, mi trucco con 5 prodotti. Ora applico il lucido a labbra della Yves Rocher. Grazie per aver visto il video, ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!